Vuole crossare Piraghi l'unica opzione, Cabral che ci arriva di testa, Mel Dianne con un miracolo, doppio. Il pallone qui lo vede che prende il tempo sul primo palo, questa è una parata che per il Milan potrebbe voler dire tanto. Piraghi ricomincia da Igor, 9 più recupero al termine di questa partita, ma non al termine della domenica di Serie A su Dazzone, ne parliamo dopo. Perché Terracciano ha regalato palla a Leao, ma con destra e porta avanti Milano all'ottantaduesimo minuto, Raffaeleau scarta il regalo, arriva a quota 10 in campionato. E questa è l'esultanza quasi catartica di Stefano Pioli. Il regolamento è per il mine straordinario, questa vittoria di importanza capitale e insomma vediamo la gioia della squadra rossonera. Come Stefano Pioli che solitamente è nelle letrovie, ma sentite come sta caricando la curva. Molto spesso non ama stare in prima linea con la scelta.